Galatone, il cui termine greco Gala significa latte, è un antico borgo salentino, posto in una vasta rete di comunità agricole di origine bizantina, nel quale la pastorizia era elemento di ricchezza e di sviluppo locale. Ha un breve tratto di costa ionica a nord di Gallipoli e rientra fra i dieci comuni più popolosi della provincia di Lecce, avendo ottenuto nel 2005 il titolo di città. Un tempo Coria era un termine dato ai casati come Galatone, per definire quei centri che avevano avuto nobili origini bizantine dell'enofone e dove la lingua greca si era fusa nel tempo al dialetto locale. Porta San Sebastiano, un tempo detta anche Porta dell'Antro, risale al XIX secolo, ma fu riedificata subito dopo il tragico terremoto del 1743. È divisa in tre parti da ben quattro colonne in stile dorico, che si innalzano imperiose al cielo. Al centro vi è un arco contraddistinto da una volta a semicerchio, con gli stemmi degli allora feudatari Pinelli Pignatelli e della Chiesa. La meravigliosa porta è poi arricchita dalla statua in pietra leccese del protettore di Galatone, San Sebastiano, posta su di un piedistallo. Essa fu scolpita dal maestro Pantaleo Latini, che la completò e la donò al paese nel 1859. La torre dell'orologio è stata completata nel 1809 ed è davvero molto interessante dal punto di vista stilistico, possedendo ben due finestre campanarie. Sul fianco sud della torre si può ammirare la splendida meridiana ancora presente e funzionante. Il sedile, adiacente alla torre dell'orologio, era l'originaria sede dell'assemblea civica dell'Università di Galatone. Venne costruito da Onofrio Fanuli nel 1589 e fu anche la sede dell'assemblea plenaria comunale fino al 1870. Il Palazzo Normanno sorse sulle macerie di un antico castello ricostruito nell'undicesimo secolo. Le opere di ampliamento e consolidamento della fortificazione vennero compiute dai feudatari che si susseguirono nel corso degli anni, a partire dalla famiglia dei Falcone nel 1192 fino ai Gentile, otto anni più tardi. Nel 1556 il castello cambiò la sua connotazione e da fortino militaresco divenne Palazzo Gentilizio. Questo accadde ad opera dei nuovi proprietari, gli squarciafico, nobili banchieri genovesi dediti al commercio e agli affari. Fu per loro mano che il palazzo si dotò dell'attuale portone d'ingresso che sostituì del tutto l'uso del ponte elevatoio. La facciata monumentale, invece, venne ingentilita negli anni a cavallo tra il Cinquecento e il Seicento per volere della famiglia Pinelli Pignatelli. Come pure subirono trasformazioni le finestre e i balconi, sontuosamente decorati in stile barocco. Nel 1927 la Marchesa Anna Ravaschieri Pinelli Pignatelli decise di donare l'intero palazzo ai frati minori terziari della Dolorata, terminando così la lunga e prospera proprietà della nobile famiglia dei Pinelli Pignatelli. La torre Pinelli Pignatelli venne realizzata nel 1267 sotto il periodo del Angioino. All'epoca era contornata da un fossato, come pure tutte le mura cinquecentesche. Un tempo la torre aveva avuto un ruolo di mera difesa passiva. Questo è riscontrabile dalle superfici piane dell'intera struttura, poco adatte a resistere all'artiglieria pesante. Nell'Ottocento il piano terreno, che anticamente ospitava le carceri, svolse solo funzioni di stalla, come dimostrano le mangiatoie ricavate nella spessa e solida muraglia. Nel piano superiore vi è una grande sala che costituiva una residenza sicura in caso di assedio. La torre venne restaurata nel 1969 e da quel momento, data la sua centralità nella vita della comunità galatea, è diventata la sede della Proloco. Il Frantoio Protoindustriale di Galatone, situato all'interno del Palazzo Pinelli Pignatelli e un misto di sapienza e di fatiche. Dal punto di vista prettamente architettonico, il Frantoio è impressionante per grandezza e sontuosità. Presenta una pianta a schema quadrangolare, dell'estensione di circa 600 m2 e suddivisa in 16 campate con copertura di volte a stella. Esso disponeva di ben 16 vasche a due pietre e 9 pressoi idraulici, anche detti torchi. Importantissimo nella vita sociale e lavorativa delle genti del posto, il Frantoio era quotidianamente frequentato da almeno 100 persone, tutte insieme impegnate all'estrazione di olio comune e di oli fini. La presenza di ben 72 lumi a gas permetteva la molitura di giorno e di notte. Tale gas era prodotto dalla combustione di scarti vegetali lavorati all'interno di una caldaia semi-interrata. oggi rappresenta l'unico esempio in provincia di Lecce di una struttura così ben attrezzata per un lavoro continuativo. Situato a circa 800 metri in linea retta e in direzione sud-est da Galatone, Fulcignano ha rappresentato l'emblema di un modello di vita profondamente intriso di cultura greca e bizantina. Nel periodo di massimo splendore del casato di Fulcignano iniziarono a farsi acute le tensioni con la vicina Galatone, forse a causa delle differenti origini etniche, linguistiche e culturali. Fu così che nel 1335 si scatenò una dura battaglia tra le due popolazioni, peraltro figlie di uno stesso territorio. I galatei ebbero la meglio su Fulcignano e la distrussero. L'architettura, forse una delle migliori mai conservate nel Salento, richiama alla mente quella di tipo castellare islamica, come i castelli di terra di Sicilia, che risentono degli influssi architettonici orientali trasmessi dalle crociate. La cinta muraria, di arenaria locale, era la particolarità dell'intero apparato, poiché era in grado di incutere al visitatore un profondo senso di soggezione per la sua impenetrabilità. Era alta circa 8 metri, lunga ben 75 sul lato più lungo e 49 su quello più corto. Lo spessore, non di poco conto, era di circa 2 metri e 70 centimetri. Il palazzo Lercari fu definito il palazzo della vergogna, per via dello stato di abbandono in cui versò per molto tempo. È uno dei monumenti più importanti di Galatone, tanto che l'amministrazione comunale lo riqualificò ed il 30 luglio 1958 lo inaugurò alla memoria di Antonio de Ferraris, detto il Galateo, la più importante figura accademica e culturale di Galatone. La biblioteca che troviamo all'interno è dotata di oltre 5500 volumi di grande pregio culturale e letterario. Vista l'importanza raggiunta, la biblioteca comunale nel 2007 è diventata parte integrante del Polo Salento Bibliotecario, essendo inserita nel piano di sviluppo SBN di Puglia. Elemento di grande fascino e di spessore culturale è il Museo delle Macchine di Leonardo da Vinci, gestito dall'associazione Creativa Menz. Esso è presente all'interno del palazzo Pinelli Pignatelli. Dal 2009 l'associazione culturale organizza una mostra dal titolo Leonardo da Vinci nella città del Galateo, opera del Galateo Giuseppe Manisco che, appassionato del genio vinciano, ha deciso di ricostruire una settantina delle sue innumerevoli opere. Un percorso unico e irripetibile tra macchine della guerra, della tecnologia e dell'architettura. Igroscopi, ponti temporanei, girevoli, fluttuanti su barche e ad unica campata, poi ancora anenometri, cuscinetti, compassi, addirittura anche un lanciasassi a canne multiple del tutto funzionante. Un viaggio sensoriale ed emozionante, tra principi fisici, applicazioni belliche, curiosità ed aneddoti di una vita eccezionale, spesa ad indagare i segreti dell'universo. Sempre all'interno del palazzo Pinelli Pignatelli vi è una mostra delle più celebri radio d'epoca del tempo. Oltre a speaker di design particolari degli anni venti, delle marche Safar, Fonola, Magnanide, Telefunchen, Radio Marelli, sono esposti ben più di un centinaio di ricevitori provenienti da varie nazioni. Oltre alla sala dedicata alle radio, vi è poi un'altra adiacente dedicata questa volta al celebre Guglielmo Marconi, celebrato con un busto di bronzo. Qui è stata allestita una stazione telegrafica con varie strumentazioni scientifiche, quali il classico rocchetto di Rumkorf e la macchina conduttrice di scintille di Wimst. Il monumento in onore di Antonio de Ferraris è l'esempio più tangibile del profondo rispetto che la città di Galatone dedica al suo uomo di maggiore spessore culturale e accademico. Il galateo, così viene oggi conosciuto dalla storia locale e nazionale, ricevette i primi rudimenti letterari dai frati basiliani di Galatone, completando gli studi umanistici a Nardò e trasferendosi a Napoli in età adulta. Qui studiò l'arte della medicina e perfezionò gli insegnamenti della filosofia e delle scienze letterarie. Fu quindi un personaggio di immensa cultura e dedizione al lavoro e Galatone lo ricorda e lo celebra come espressione della sapienza letteraria galatea, onorando a lui, oltre che la bellissima statua, anche il giardino del Palazzo Belmonte. La chiesetta, in onore della Madonna dell'Odigitria o Santa Maria dell'Idro, risale al XII secolo ma di essa, purtroppo, rimane ora ben poco. L'interno, caratterizzato da una volta a botte, era un tempo ben decorato e ornato con scene della passione di Cristo Re. Al centro della struttura si possono ancora ammirare le pitture della Madonna dell'Idria, che indica la via della salvezza a suo figlio Gesù. Altri affreschi indicano santi della liturgia orientale, dimostrando il profondo passato che il Salento ebbe con culture provenienti dall'altra sponda del Mediterraneo e con i culti bizantini, rapporti che la cultura latina tentò invece di seppellire. Galatone vanta anche una profonda tradizione culturale nel campo delle arti figurative e delle immagini, con il bellissimo cinema della Minerva. Un'opera unica nel suo genere, rimasta chiusa per molti anni ma riaperta al pubblico di recente. Il cinema della Minerva rappresenta oggi un fiore all'occhiello per Galatone e la sua gente, in quanto è un luogo dove la cultura e l'arte si fondono indissolubilmente per decantare il bello nella posia delle arti figurative. Una delle zone paesaggistiche più suggestive dell'intero litorale ionico salentino è la montagna spaccata, presso la località La Reggia, situata sul tratto di costa che da Lido Conchiglie conduce a Santa Maria al Bagno, un'area naturalistica di indubbia bellezza paesaggistica. La costa rocciosa ma ricca di numerosi punti di accesso al mare è caratterizzata da piccole grotte più o meno sommerse e di origine carsica e dalla presenza di specie corallifere di varia natura che nel tempo, purtroppo, l'uomo ha contribuito a distruggere. Tale stupefacente variabilità strutturale e faunistica rende la Reggia un vero tesoro naturale alla luce del sole, un luogo dove il silenzio e la riflessione rappresentano i punti cardine di chi vuole godersi tale spettacolo e vivere per un momento una stretta simbiosi con la natura costiera. Grazie a tutti!